lunedì di pasquetta a cortina sempre a ravalles due giorni fa ha nevigato e c'è una neve perfetta è meglio di quando era alta stagione forse questa è veramente la migliore giornata fatta a cortina quest'anno guardate quanta neve caspita non possiamo concludere la stagione meglio di così abbiamo la neve le piste ma sono bellissime poca gente speriamo che non ne viene altra spettacolo temperatura bella fresca non resta che scendere